Ci racconta qualche aneddoto, qualche episodio magari, qualche momento anche di darità con tanti ragazzi che magari provenivano da ambienti, mondi diversi, come hanno accolto questa novità e come poi hanno reagito magari sul set. Grazie. Insomma, di cose divertenti ne abbiamo fatte. Ricordo Paolo Cannavaro in una pagina in cui facevamo il verso alla banda degli Onesti, il mitico film di Totò, in cui Paolo attaccava le banconote, che però non è tanto quello il gesto. Il gesto che io ricordo è che quando io ho cominciato nel 2006, se volevo il turno di riuscire a parlare con il telefonino all'interno degli uffici era impossibile. E quella scena mi ricorda molto una scena in cui Paolo e direi ed io montavamo un ripetitore per i cellulari. Insomma, quindi gli aneddoti sono poi fondamentalmente quelli della vita vissuta.